Marco Carpa si mormora che si stia appassionando assai al calcio e voglia perfezionare la sua tecnica di gioco. Per questa ragione è stato spesso avvistato con un ai tanti calciatori macedone molto noto nei paesi balcanici. Il famoso sportivo starebbe allenando il cantante con regolarità, e c'è già chi dice lo stia trasformando in un attaccante imbattibile, riporta Alberto Dandolo per Dago Spia. Iva Zanecchi l'Aquila di Ligonchio sta ultimando infatti le prove con una orchestra di ben 40 elementi con cui questa estate sarà in tournée nelle più importanti piazze italiane. Ma a settembre ritornerà a stanziale e si farà rinchiudere nella casa del grande fratello Ditto, riporta Alberto Dandolo per Dago Spia. .Giorgette Polizzi ve lo dico sempre che non smette mai di stupire, e così in mente non si dica ti ritrovi nel letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po' di giorni, però cara vita una cosa te la dico, tu non mi fai paura ed io sono più forte di te. .Antonino Cannavacci vuolo sul numero 3257 in edicola mercoledì 25 aprile, lo chef si trasforma in chef papperaio. .